Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, la nostra rassegna stampa dei quotidiani che questa mattina troviamo nelle Licole, oggi è sabato 22 giugno 2019, vogliamo subito iniziare con la prima pagina del centro della provincia di Pescara con il titolo di apertura, nuova giunta e rifiuto della Lega. Il comune di Pescara è saltato l'accordo sugli assessori, il carroccio è pronto anche alla rottura. Nella fotonotizia troviamo il concerto che si è svolto ieri sera allo stadio Adriatico di Pescara, l'energia di Ligabue in fiamma la prima notte d'estate. Il concerto si è tenuto ieri sera e c'è stata veramente una notte di grande festa. Sull'articolo di spalla di sinistra si parla di Caramanico, terme chiuse via alla protesta, serrande abbassate ieri in segno di protesta per la mancata riapertura delle terme per consentire la partecipazione ai commercianti e albergatori al Consiglio Comunale straordinario che si parlava proprio della riapertura delle terme. A Montesilvano ieri c'è stato uno scontro in bici sulla strada Parco, due in ospedale, un 67enne ricoverato in ortopedia con una prognosi di 90 giorni ma è stata ferita anche una donna. Comune di Silvi, in merito al tragica vicenda che è accaduta la settimana scorsa, le tracce di sangue cancellate dopo il delitto. Blitz in centro contro droga e degrato, il sindaco Masci sulla sicurezza a Pescara, la gente per bene diceva difesa, il questore qui non serve l'esercito, commenta. Nel taglio basso, invece, nei box di destra, scontro con il Parco della Magliella, i sindaci contro le salamandre di Vieti dell'Ente per tutelare l'animale fanno infuriare i comuni. E poi sull'autostrada dei parchi, la 24, traforo del Gran Sasso, è chiuso ai tir per cinque giorni. Vogliamo spostarci adesso sul centro della provincia di Chieti, anche delle zone di Lanciano e Vasto. Titolo di apertura, conti svuotati con firme e timbri falsi. A Chieti, Ateneo Telematico, così per i pubblici ministeri gli arrestati depredavano le casse. Nel taglio alto si parla della crisi di governo, Salvini ha i 5 stelle, la Flactax o Lascio e Conti, invece, tratta con Bruxelles, con l'Unione Europea. Anche qui nella foto notizia si parla dell'evento di ieri sera allo stadio Adriatico di Ligabue e negli articoli di spalla, invece, di sinistra, Piscina chiede gestione alla Federazione del Nuoto, terminato il contratto con la Sport Life per gestire le attività estive della Piscina. E poi il Tribunale, invece, di Vasto, Giustizia, ecco i rinforzi negli uffici, nell'elenco dei nuovi assistenti giudiziari assunti dal governo. Sei sono stati proprio assegnati al Tribunale di Vasto. Nel taglio basso, invece, la rapina ai martelli, la triste vicenda che vogliamo ricordare che era successa, accaduta a Lanciano, Tribunale blindato, lunedì via al processo per la banda romena. strade chiuse e di viedi di sosta. Vediamo adesso leggere il centro della provincia dell'Aquila, anche delle zone di Avezzano e Sulmona. Stadio inagibile all'Aquila e il rugby emigra. Nessun intervento al fattore dopo i rilievi sulla sicurezza dello stadio. Vediamo, invece, sugli articoli di spalla di sinistra, nella Marsica, denuncia i bulli che hanno rotto il braccio al figlio. Una mamma si è presentata in procura per denunciare i due bulli che in un calcio hanno spezzato il braccio al figlio di dieci anni. L'aggressione è avvenuta in un paese della Marsica. Nella fotonotizia del centro pagina vediamo festa e corteo dei neolaureati in centro storico. Vediamo i cappelli neri in aria e le ragazze che festeggiano la loro laurea, la giornata del laureato. All'Aquila riapre anche la chiesa di San Silvestro dopo la cerimonia di inaugurazione. e poi nel basso, a Scanno, vediamo un orso uccide oltre 100 pecore in un'azienda. A Ortucchio, invece, morto a Laghetto, sindaco indacato, un uomo travolto dall'albero durante i lavori nei guai favoriti e altri due. Vediamo adesso, spostandoci sul centro della provincia di Teramo, Pedemontana si torna al progetto, il Movimento 5 Stelle dice va completata la strada incompiuta tra Teramo ed Ascoli. E poi nella fotonotizia del centro pagina si parla della tragica vicenda del scaduto al comune di Silvi, le tracce di sangue cancellate dopo il delitto. Questo è stato riscontrato ieri dopo il sopralluogo. Qui nella foto il sostituto procuratore e poi la moglie della vittima e madre di Giuseppe Di Martino arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre al termine di una violenta lite in casa. A Giulianova, invece, il seminterrato del Cursal diventa teatro. Nel progetto di riqualificazione sarà reso disponibile l'intero seminterrato di 1200 metri quadrati. A Teramo, invece, ieri, patto fra l'Ateneo Teramano e quegli africani. Sono stati 29 i rettori dell'Università africana a partecipare alla conferenza che si è tenuta ieri nell'aula consigliare dell'Università di Teramo. Lo sport, invece, il Teramo calcio, il Teramo punta, Tomei, Contini e Martignago. Vediamo che il nuovo presidente sta realizzando una nuova squadra, più forte della precedente, proprio per poter superare e andare in Serie B dalla Serie C. Ricatto, invece, su Facebook con foto sexy. A Teramo chiede 20 mila euro a un conoscente per non divulgare le immagini sexy su Facebook. Vediamo adesso il messaggero della regione Abruzzo. Gran Sasso arriva a Conte. Il presidente del Consiglio oggi a Teramo per discutere l'emergenza ambientale. Sul tavolo anche la nomina del commissario che dovrà gestire 120 milioni di lavori. Il comune di Montesilvano ieri è stata nominata la nuova giunta con i nuovi assessori. Il sindaco De Martini si è affrettato per evitare che si prolungasse lo stato di legalità dell'aggiunta, denunciato da rifondazione. E invece il comune di Pescara ancora non è riuscito a barare la sua nuova giunta. All'Aquila, pedofilia online, indacato un sedicenne, studente di buona famiglia, è stato indacato dalla procura di Catania per lo scambio di materiale pedopornografico online. Ieri c'è stata anche la perquisizione. Ricatto a Lucirosse, a un imprenditore giovane a processo, in via foto harde del marito alla moglie, pretendeva che gli desse 20 mila euro. E poi andiamo avanti con la città della provincia di Teramo. Titolo di apertura, sfollati, richiesto il 60% delle case, la misura della regione sta funzionando. 57 domande per i primi 95 alloggi messi a disposizione dal comune. E poi, della triste vicenda al comune di Silvi, la scena dell'elitto è stata ripulita da madre e figlio. Nella fotonotizia vediamo l'evento che si è svolto ieri all'Università di Teramo, ospitata la conferenza dei rettori africani a Teneo, aperto al mondo. E poi, nel taglio basso, la Tercop, si parla della Tercop, invita fino al 20 novembre. Il Tare sospende la revoca della gestione delle strisce blu. E poi, spostiamo nel taglio basso del Teramo Calcio, Tedino vuole il suo numero uno, Tomei. Ci spostiamo adesso, dopo aver letto le prime pagine dei quotidiani regionali, sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ci spostiamo subito alla prima pagina del Corriere della Sera, titolo di apertura sul CSM, manovre e millanterie. Ora si gira pagina, Mattarella preoccupato, segnale sulle riforme. Dobbiamo ricordare anche l'intervento proprio di Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha fatto ieri al plenum del CSM. E poi, attenzione con l'Iran, fermati caccia già in volo. Vediamo il controordine di Trump a dieci minuti dalla guerra. Vogliamo ricordare il motivo di questo ordine che aveva dato inizialmente il Presidente Trump. Era tutto pronto, ma ci sarebbero stati da un loro censimento. Circa 150 morti, ha detto la Casa Bianca. Però lunedì la crisi arriva all'ONU e parlerà proprio Trump anche con Putin e John Ping al G20 di Osaka. Vogliamo ricordare il motivo perché è stato abbattuto un drone americano da parte dell'Iran e poi è stato anche esposto in pubblico. Tasse, invece, Movimento 5 Stelle contro Salvini, leader leghista. Non evitiamo la procedura dell'Unione Europea a ogni costo. Spostiamo adesso sul quotidiano Repubblica. Titolo di apertura sulle spalle di un uomo solo. Duro intervento di Mattarella ieri al Consiglio Superiore della Magistratura. Il quacervo di manovre mira il prestigio della magistratura, ha detto ieri Mattarella. È inaccettabile, ora si volta pagina. Il Quirinale ormai è l'unico interlocutore delle cancellerie estere e si fa carico delle mediazioni sui conti per rispettare le regole dell'Unione Europea. E dopo cassa, depositi e prestiti, il Governo mette le mani sui fondi di Banca d'Italia. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano Il Messaggero, questa volta Il Messaggero nazionale. Titolo di apertura, il 72% dei romani boccia il sindaco Virginia Raggi. È un sondaggio di Euromedia dove due suoi elettori su treno rivoterebbero. La sindaca incapace per il 68%, se si tornasse al voto otterrebbe il 15,6%. Il crollo su rifiuti, strade e trasporti. E inoltre il 70,7% dice che deve anche lasciare il suo incarico attuale. E altre notizie, si parla allarme Conti, lite giallo-verde su Flactax, no di Bruxelles all'Italia, Conte pronto alla linea dura, nessun alibi a Salvini. E poi vediamo il discorso ieri di Mattarella al Consiglio Superiore della Magistratura. Mattarella, strigliata, fatti sconcertanti, basta danni, il colle oggi si volta pagina, dice un altro pubblico ministero indagato dalla Procura di Perugia. E poi della vicenda di ieri tra Stati Uniti d'America e Iran, a un passo dalla guerra, Trump ha fermato i caccia in extremis. Però vogliamo ricordare che tutti i voli su quella zona dell'Iran, all'Italia compresa, hanno modificato le rotte. Il mattino di Napoli, titolo di apertura, il Papa, la facoltà dei Gesuiti di Posillipo, traccia le linee della nuova teologia. E inoltre il Pontefice e la città, Napoli, non è solo violenza, è anche santità. E poi nel taglio del centro pagina, vediamo il deficit, Salvini sfida l'Unione Europea, la procedura va evitata ma ad ogni costo, Conte, Presidente del Consiglio, noi mai con il cappello in mano, Flactax e Ilva, torna la tensione nel governo. E poi nel box in basso si parla del discorso che ha fatto ieri Mattarella, anche qui, quadro desolante, voltare pagina, la strighiata di Mattarella, toghe in politica, c'è la stretta a riguardo. Vogliamo anche ricordare che ieri è morto il sindaco di Rocca di Papa, per salvare gli altri in ospedale. Aveva detto anche la moglie che se sarebbe guarito e uscito al più presto l'avrebbe anche sposata, però purtroppo ieri non ce l'ha fatta, ha lottato fino alla fine per guarire. Sostiamo al quotidiano Il Tempo, inizia con il titolo di apertura proprio, sul sindaco di Rocca di Papa, una medaglia, dice il titolo di apertura, per Capitano Manu. Salvini promette riconoscimento al valore civile, per il sindaco eroe non ha vinto l'ultima battaglia, ma ha mostrato che la politica si può fare per gli altri. E poi nel taglio basso vediamo il dramma, nel quartiere di Roma, nella zona di Tomba di Nerone, vogliamo ricordare, Tomba di Nerone si trova nella zona di Roma Nord, anziana coppia in difficoltà, lascia un biglietto di scusa ai figli e si toglie la vita. Non riescono a pagare l'affitto, si uccidono insieme. Questo è un avvocato romano, ha deciso proprio di spararsi alla moglie e poi togliersi la vita nel quartiere della Cassia. Giallo, anche sulla fine dello statunitense, studente morto nel Tevere, assolto il panca bestia. Contestato invece danno da 19 milioni di euro, la Corte dei Conti contro l'AMA per i cassonetti a noleggio. Vogliamo adesso passare alla prima pagina del quotidiano La Stampa di Torino. La minaccia del Premier, se arriva l'infrazione, paralizzeremo l'Europa. Conte con Londra possiamo bloccare tutto e attacca inoltre il vicepremiere Salvini sui conti. Poi nella fotonotizia vediamo qui Roberta Larosa, biologa di Rosarno, alle BAMAS, mentre somministra il cibo agli squali. La biologa marina che serve il pranzo agli squali. Dalla stampa ci spostiamo al Manifesto, altro quotidiano nazionale, CGL, CISL e Will, no, alla secezione, oggi in piazza Reggio Calabria, per il rilancio del mezzogiorno, ma soprattutto sulla questione del lavoro, manifestazione nazionale contro l'autonomia. E poi nell'articolo di spalla di destra si parla anche qui dell'intervento del Presidente della Repubblica Seggio Martarella al CSM sconcertante il Presidente Duro. Un quadro, dice, inaccettabile, un quacervo di manovre nascosti dal Capo dello Stato proprio ieri al Plenum straordinario. Dice, basta, nomine a pacchetto. E andiamo nell'articolo del taglio basso, nei box Guerra all'Iran, Trump ci ripensa e spiazza Israele. E poi sulla vicenda di Hong Kong la piazza respinge le scuse del governo, inutile il mea culpa, gli studenti dell'ex colonia britannica sono tornati in strada per chiedere il ritiro definitivo della legge sull'estradizione e un'inchiesta indipendente sulle violenze della polizia che ci sono state questi giorni. Il quotidiano La Verità, diretto dal Maurizio Belpietro, manipolate le carte dell'inchiesta sul CSM, dice, abbiamo ottenuto una delle intercettazioni che vengono date solo a qualche giornale, abbiamo scoperto che non ce le raccontano giusta. La Verità non viene citata come sostenuto falsamente da Repubblica. Queste sono le ipotesi. E poi, nel centro pagina, nel governo Litigon, a chi ha la tassa più bassa, il leader del Carroccio, taglio di 10 miliardi, un lascio, il premier, io più ambizioso di lui, trovi i soldi, intanto l'Unione Europea, però, continua la trattativa per evitare la procedura di infrazione, ma l'Olanda ci minaccia anche su questo. E vediamo anche altri aspetti interessanti. Una sentenza della Cassazione fa discutere il feto è una persona, l'obvietà rivoluzionaria, cosa che già si sapeva, dove viene detto che il feto umano è un essere umano, una persona, dunque eliminarlo a tutti gli effetti, corrisponde a un omicidio. Questa è la sentenza della Cassazione. Sul quotidiano libero, solamente chiacchiere, zero iniziative, tutti criticano la giustizia, nessuno sa come cambiarla, anziché processarli, Mattarella si limita a fare la paternale ai magistrati, intanto le correnti si spartiscono nel CSM e dice l'articolo qua di giornale non c'è volontà di sporcarsi le mani. E poi si parla dell'evasione fiscale, ne mancano ancora decine di milioni, beccati 13 mila evasori totali, ogni ora la Guardia di Finanza scopre un reato, sussidi sociali, irregolarità, uno su tre. Questo è l'articolo che viene riportato. Il secolo d'Italia, diretto da Francesco Storace, pronti, dice, a una nuova fase, intervista a Giorgio Aperloni al secolo, il nostro prossimo obiettivo è superare la doppia cifra nelle elezioni. E poi, nei box in basso, troviamo il sorteggio per il CSM, l'idea di Valentino dieci anni fa, ora lo invocano un po' tutti, parliamo del sorteggio per eleggere i membri del CSM. E poi si parla dell'Unione Europea, dall'autoscese nessuno, lui era Giuseppe Conte, arrivò a una Berlina, e poi la supermedia, Jan Tram, Fratelli d'Italia, verso il sorpasso su Forza Italia, lo attesterebbero i dati, che a quasi un mese dall'Europa fornisce la supermedia dei sondaggi. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, Boccia, il governo deve chiarire, se vuole, la paralisi dell'industria. Vogliamo ricordare Boccia, il leader di Confindustria, e questo governo, dice il presidente di Confindustria, deve chiarire, se vuole portare alla paralisi dell'industria italiana, e se questo è nei suoi fini, o se pensa che la questione industriale sia un elemento centrale per il Paese. E poi vediamo nella fotonotizia il viadotto di Polcevera, Genova, Genova primo pilone del nuovo ponte, l'opera ideata da Renzo Piano, e poi anche le interviste, si parla di Alessandro Benetton, in merito ai grandi eventi, occasioni di sviluppo, sulle Olimpiadi Invernali del 2006. E poi il Telepass ad Atlanti, arriva il mandato a vendere, fino al 30%, dopo la dichiarazione di intenti, Atlanti avrebbe avviato il processo per valorizzare la controllata Telepass, eccessione di una quota di minoranza, si può arrivare, dice, al 30%, è stato dato mandato per ora informale a Mediobank, insieme al Gondel Sash, per individuare i potenziali compagni di viaggio adeguati. dal sole 24 ore, ci spostiamo al quotidiano, un altro quotidiano nazionale, avvenire, ombre di guerra, Trump, ho fermato all'ultimo, alla rappresaglia contro lì, tanto il drone, Teheran, poteva colpire i aerei USA, deviati voli di linea, sopra il paese. Intanto sulla Seawatch, migranti appello l'ONU, la lega replica USA, Catania archiviata sui ministri. E nel taglio del centro pagina si parla di Salvini, forza con l'Europa, ma Conte invece prova a ricucire. A conclusione dell'Eurosummit, il premio ammette che il negoziato per evitare la procedura di inflazione è delicato e complesso. E infatti vediamo Conte chiede responsabilità ai vice e gli avverte non sarò io il premio e che ammette i guai il paese. Con quest'ultimo titolo vogliamo dei quotidiani nazionali, spostarci adesso ai quotidiani nazionali, però questa volta sportivi. Iniziamo subito con il Corriere dello Sport, ci vuole fede l'Under 21 per battere il Belgio. potrebbe non bastare, servono chiesa e un miracolo. Vogliamo ricordare la partita questa sera su Rai 1 alle ore 21. E intanto un pirlo per Conte, l'Inter ha preso Sensi, regista che Antonio voleva a tutti i costi. Raggiunta ieri a Milano, l'intesa con il Sassuolo l'operazione è costata 30 milioni di euro con lui anche arrivato all'Inter. Barella, dal Corriere dello Sport alla Gazzetta dello Sport, titolo di apertura, due talenti italiani al centro delle strategie del nuovo allenatore, sarà Inter nazionale, Conte vuole Sensi e Barella in Nera Azzurra, l'accordo 25 milioni per il regista del Sassuolo. Il giuriello del Cagliari costa molto di più. Vogliamo anche vedere la missione Under 21, battere il Belgio e sperare ancora. Questa mattina, questa sera alle ore 21, ci sarà la partita contro il Belgio e verrà trasmessa in diretta. Tutto Sport si parla della Jumentus, Sarri vuole col Bali e il City potrebbe accontentare Guardiola, ma il tecnico della Juve spera di convincere il suo pupillo a seguirlo a Torino. I bianconeri preparano l'affondo decisivo e poi si parla anche qui sull'articolo di spalla di destra l'Under 21 credetici e vincere e tifare Spagna Reggio Emilia vi spinge Conte Italia Inter accordo per Sensi il prossimo è Barella. Con quest'ultima notizia sportiva vogliamo concludere subito con il quotidiano sportivo altro quotidiano nazionale vincerà Sarri Marcello Lippi commenta le tante rivoluzioni in panchina Maurizio convincerà gli scetti politici ma Napoli e Inter ora sono vicinissime alla Juventus questa è l'ultima notizia sportiva che vogliamo dare prima di passare alla seconda parte di mattino 6 nell'andare a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali e poi vedere anche dei servizi che sono stati preparati vogliamo fare un break pubblicitario non cambiate canale ci rivediamo a breve ben ritrovati siamo sempre in diretta con la seconda parte di mattino 6 vogliamo subito iniziare a vedere cosa c'è all'interno delle pagine dei quotidiani regionali iniziamo subito con il centro della provincia di Pescara sindaci in rivolta contro la salamandra tra le spese di 16 mila euro per cartelli che piadano di schiacciare il rettile e questo ha scatenato una reazione dei comuni dove dicono prima interveniamo sulle buche sulle strade lettera invece shock sull'Arap bilancio falso Lembroni si licenzia dalla presidenza dell'ente regionale e autodenuncia Marsiglio e Sospiri le irregolarità nei conti vediamo qui la foto del presidente Lembroni che sta per lasciare l'Arap e poi si parla dell'altro caso di una società controllata della regione Abruzzo è scontro tra Testa e Marcozzi per 200 mila euro dati al Crua il Crua vogliamo ricordare il centro di ricerca unico d'Abruzzo voluto proprio dal capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale sempre sull'Abruzzo vogliamo ricordare il traforo chiuso ai tir per 5 giorni il nome blindato del commissario invece per il Gran Sasso passa in secondo ordine dopo la notizia sul nuovo divieto lavori sono necessari per la messa in sicurezza della 24 e poi sulla sanità l'assessore regionale Nicoletta Perì incontra il sindacato infermieri dove sono stati discussi i principali problemi della categoria dalla caderenza di organice ai nuovi modelli organizzativi qui vediamo nella foto l'assessore Verico il sindacato dei rappresentanti degli infermieri ci spostiamo a Montesilvano dove il sindaco Masci non è ancora riuscito a trovare un accordo per formare la nuova giunta anzi scontro totale ora la lega è pronta anche alla rottura finisce male la riunione tra i partiti della coalizione Masci va anche su tutte le furie e il nuovo sindaco dice non ci si può imporre le scelte qui vediamo la riunione nella foto dei rappresentanti della lega prima dell'incontro con il sindaco Masci sempre a Pescara nuovi controlli in centro droga e degrado dei blitz dei vigili Masci l'agente per bene dice va a difesa 10 agenti della polizia municipale in azione davanti alla stazione per contrastare spaccio e bivacchi il piano del nuovo sindaco Masci dice presenza costante di agenti della zona giardinetti recintati e anche uno spazio per i cani a riguardo vogliamo vedere un servizio preparato per noi prego siamo a ridosso dell'area di risulta della stazione ferroviaria di Pescara nella Pinettina dove spesso nelle ultime settimane ci sono stati problemi sindaco di ordine pubblico questa mattina c'è stato questo blitz con la polizia municipale che situazione avete trovato? c'è una situazione di degrado inaccettabile che dobbiamo eliminare tutta quest'area sembra terra di nessuno per questo abbiamo fatto in modo che oggi ci fosse una presenza massiccia del corpo di polizia municipale ma questa presenza sarà costante nei prossimi mesi a Pescara perché tutti devono capire che l'area è cambiata Pescara non può essere una terra dove non c'è sicurezza noi puntiamo molto sulla sicurezza urbana dobbiamo eliminare il degrado Pescara deve essere una città accogliente come è sempre stata dove i cittadini possono vivere bene e devono vivere bene quindi oggi ci siamo mossi in quest'area che è un'area che nei mesi scorsi ha visto situazioni illegali illecite e criminose noi non possiamo accettarlo ma queste azioni si ripeteranno anche in altre zone della città perché dobbiamo essere molto presenti l'altra settimana siamo andati al ferro di cavallo a verificare le situazioni che sono veramente inaccettabili in quella zona abbiamo parlato con le associazioni che sono nella zona di Villo del Fuoco proprio perché vogliamo con loro concordare una presenza costante ma anche il centro è diventato invivibile in alcune aree penso all'area del parcheggio dove ci sono parcheggiatori abusivi quest'area qui verde ma totalmente abbandonata alla mercè di persone che sicuramente non commettono atti regolari perché lo vediamo oggi con i vigili abbiamo visto qual è la situazione Pescara tornerà a essere una città vivibile perché i cittadini per bene devono vivere bene la nostra città rimaniamo sempre a Pescara dove sulla Tiburtina sono cominciati i lavori per l'abbattimento della casa della droga e nell'ambito di questo restlining dove vengono sono stati abbandonati per anni è diventato un rifugio senza per i senza tetto e anche per i tossico dipendenti multato nove volte in pochi giorni Varco Attivo è ingannevole così dice un'automobilista ho provato a far valere le ragioni dopo aver ricevuto le prime contravenzioni ora lancio l'appello al sindaco Masci riporta la notizia lui è il Varco la scritta del Varco è una trappola linguistica il meccanismo va bloccato ieri si poteva creare veramente una tragedia la polizia blocca una donna a piedi contro mano sull'asse con la bambina nel passeggino la donna era scesa dalla stazione e pensava che andando a piedi seguendo le indicazioni poteva arrivare all'aeroporto di Pescara invece si è ritrovata sull'asse attrezzato intervenuta subito la polizia con il 113 per mettere in sicurezza la zona e toga d'oro premiati ieri a Pescara i 21 avvocati con 40 anni di attività è emozionante la cerimonia dell'autalam magna del tribunale con i legali e le loro famiglie poi andando avanti Montesilvano ieri triste incidente sulla strada a Parco scontro tra ciclisti due feriti in ospedale all'altezza di via Livenza un gruppo di amici ha incrociato una donna che pedalava nella direzione opposta il più grave è un uomo di 67 anni ricoverato in ortopedia con una prognosi di 90 giorni invece la 52enne se la caverà con 10 giorni però di cure al momento ci sono gli accertamenti della polizia stradale sempre a Montesilvano cimitero protesta per le erbacce sulle croci il camposanto di via Togliatti sollecitano l'intervento i cittadini del comune per sistemare le tombe a terra qui vediamo nella foto il cimitero l'erba lasciata in colta e invece a Montesilvano il comune il sindaco De Martinis ha assegnato le deleghe ai sette assessori dice è una bella squadra il sindaco tiene le competenze di sicurezza politiche della casa e disabilità urbanistica e piano regolatore ad Aliano vogliamo anche qui vedere il servizio preparato per noi prego risultato elettorale e competenze sono stati i criteri con cui il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha scelto i componenti della sua giunta e ha assegnato le deleghe De Martinis ha spento le polemiche sulle quote rose in giunta accelerando i tempi previsti e nominando una terza donna l'Udc Damiana Rossi che ha completato così la squadra di governo dando il via alla nuova consigliatura De Martinis per quanto riguarda le deleghe il vice sindaco sarà Paolo Cigli che ha anche l'assessorato alla sanità la protezione civile società partecipate ambiente igiene urbana attuazione del programma servizi cimiteriali e contenzioso Deborah Comardi invece avrà ancora una volta bilancio e finanze tributi informatizzazione progettazione comunitaria rapporti con enti sovraccomunali e si occuperà anche di turismo manifestazioni ed eventi a Barbara e Di Giovanni la pubblica istruzione gli asili nido l'associazionismo la riflessione scolastica le politiche sociali e la famiglia a Damiana Rossi la polizia locale la viabilità le pare opportunità il personale i lavori pubblici e l'edilizia scolastica Anthony Agliano avrà l'urbanistica la riqualificazione urbana il demanio la città metropolitana per affrontare al meglio il passaggio alla grande pescara poi la mobilità sostenibile e lo sviluppo economico ad Alessandro Pompei il sindaco affidato manutenzione e servizi sport ed eventi sportivi politiche ed eventi giovanili impiantistica sportiva Paolo Di Blasio sarà l'assessore al verde pubblico al patrimonio alla valorizzazione dei beni comunitari politiche della terza età politiche energetiche pubblica illuminazione e realizzazione di un nuovo cimitero commercio e suap il sindaco Ottavio De Martinis ha mantenuto per sé la cultura le politiche della disabilità le politiche della casa la gestione del palacongressi il benessere animale la sicurezza dei cittadini deleghe che potrebbero essere affiancate anche da alcuni consiglieri comunali sindaco il giorno della proclamazione degli eletti mi ha detto io la squadra ce l'ho già in mente questa squadra di governo è la sua quella che aveva in mente allora sì e c'erano due possibilità questa è la seconda e sono contento che in qualche modo si sia divenuti in tempo record anche all'aggiunta dell'ultima componente che in sede di consiglio comunale non era stata ancora espressa dal gruppo forse dagli ODC è un motivo ovviamente di soddisfazione nella misura in cui possiamo partire al completo cosa che già abbiamo fatto questa mattina con la convocazione di un'aggiunta ecco nella prima aggiunta di cosa avete parlato nello specifico? è parlato dell'estate di tutto quello che necessita una stagione turistica importante come quella che è alle porte abbiamo predisposto dei mezzi sia economici che insomma strutturali al fine di regalare alla città un'estate importante e questa mattina è stata anche approvata una importante delibera che prevedeva la rottamazione che ha una scadenza del 30 giugno che riteniamo essere uno strumento utile per la città fuori da questa giunta sono rimasti i nomi eccellenti a partire dall'ex sindaco Maragno cosa si aspetta il loro contributo ci sarà? Allora in realtà presumo di sì o almeno per quello che riguarda la componente Udc ossia Lino Ruggero e Walter Cozzi con i quali ho parlato ieri e mi hanno assicurato massimo sostegno il sindaco di Maragno è stato contattato da giorni come tutti gli altri e vediamo un attimino qual è il suo atteggiamento a seguito di una nomina che è comunque stata condivisa così mi dicono gli altri due componenti Udc vogliamo andare avanti con le notizie le terme la notizia di Caramanico chiusi per protesta non fate morire Caramanico i commercianti abbassano le saracinesche e partecipano al consiglio comunale straordinario martedì a Pescara vertice in regione con i lavoratori e la società del presidio vogliamo adesso vedere anche altre notizie in caso mandiamo anche un servizio sportivo salvato anche l'ospedale del Carmine a Penne il segretario di rifondazione la regione dice trovi una soluzione anche per utilizzarlo vogliamo adesso cambiare argomento e mandare il servizio sull'Unidav di Chieti nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Chieti che ha portato a 5 misure cautelari con 18 persone indagate nell'ambito della gestione dell'Università Telematica Da Vinci questa mattina i vertici dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara hanno illustrato la posizione dell'Ateneo spiegando che sono già al lavoro i legali per quantificare il danno patrimoniale di immagine subito la D'Annunzio inoltre pronta a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento giudiziario l'Università si è già mossa abbastanza come risanamento della Università Telematica sono stati nominati nuovi organismi dirigenziali dell'Università Telematica quindi avrà due obiettivi uno il risanamento dei conti con la conseguente comunque azione legale verso chi ha determinato una gestione piuttosto inconsueta devo dire dall'altro il piano di rilancio dell'Università su quale già stavamo lavorando e che prevederà assolutamente un rilancio di molti corsi di laurea nuovi e soprattutto del post laurea e dei corsi ECM per le aziende e quant'altro possa fare l'Università Telematica la stiamo dotando di una nuova sede di nuovo personale di nuove attrezzature per poter svolgere meglio il rilancio della Telematica in questo momento il danno d'immagine ovviamente noi stiamo valutando perché è una notizia di ieri ormai è uscita sui giornali da ieri e noi stavamo preparando il danno patrimoniale adesso valuteremo anche il danno d'immagine che è sicuramente importante i conti non abbiamo potuto fare completamente i conti perché l'Università Telematica ha bilanci non approvati dal 2016 se non mi sbaglio quindi siamo in una condizione che da un punto di vista dei bilanci finanziario è sfuggita al controllo nel periodo che ha visto governare il partner istituzionale quindi diciamo noi non abbiamo grande facilità al controllo dei conti abbiamo delegato abbiamo chiesto una due diligence a un istituto di documentazione che fa questo in realtà abbiamo preso il ranking mondiale abbiamo preso il primo KPMG e abbiamo chiesto questa consulenza proprio per poter capire che cosa fosse accaduto anche in assenza di bilanci approvati attenzione approvati l'ultimo approvato addirittura con il parere negativo dei revisori dei conti quindi ci troviamo di fronte ad una situazione veramente difficile dal punto di vista economico e finanziario da Chieti ci spostiamo a Lanciano dove inizierà lunedì il processo 7 alla sbarra rapina nella villa dei Martelli tribunale blindato in vista dell'udienza il presidente Audino dispone misure straordinarie di sicurezza di vieti di sosta fuori anche i giornalisti il giudizio con il rito abbreviato adesso ci spostiamo sempre su altri argomenti passiamo al messaggero Conte oggi a Teramo per affrontare l'emergenza tra foro il premier discute la nomina anche del nuovo commissario straordinario in ballo 120 milioni di lavori per il recupero del sistema idrico e poi l'Aquila e il 5G arrivano milioni di antenne gli esperti dicono possibili rischi per la salute dispositivi wifi nello spazio e perfino nei tombini con la nuova tecnologia dal 5G ci spostiamo anche qui a Pescara anche il messaggero riporta la vicenda di ieri a piedi sull'asse con la figlia nel passeggino automobilisti increduli la straniera era arrivata alla stazione voleva raggiungere l'aeroporto per prendere il volo a Praga e camminava a contromano ignorando gli inviti a fermarsi spostiamo anche qui sulla giunta scobbido scontro lega masci a Pescara alta tensione al tavolo Salvini vuole Antonelli presidente il sindaco che lo vorrebbe nell'esecutivo perde le staffe mascia al vertice dell'assemblea consentirebbe l'ingresso di seccia e anche di Pignoli il nodo delle nomine anche dei dirigenti giunta al completo abbiamo visto anche il servizio del comune di Montesilvano dove Ottavio De Martinis ha formato la nuova giunta e poi adesso il sindaco si è tenuto le deleghe sulla cultura sicurezza politica della casa e della disabilità Palacongressi e mondo animale spostiamo all'Aquila maxigiro di pedopornografia indagato un sedicenne aquilano in 51 nei guai con l'accusa di detenzione e divulgazione di materiale porno minorile l'inchiesta è partita dalla procura di Catania scattata dopo la denuncia di una madre vediamo andando ancora avanti ci spostiamo abbiamo anche visto il servizio bufera unidav all'annunzio risarcimento danni per 4 milioni di euro questa è la richiesta dell'università il rettore Caputi dice ci costituiremo parte civile con la procura c'è un dialogo collaborativo dai controlli i debiti provocati dalla SEVS il 2 si elege il vertice dell'Ateneo telematico vediamo anche la vicenda del del comune di Chieti Fratelli d'Italia e Udc stesse posizioni si va al tavolo regionale vogliamo ricordare che poco più di una settimana dopo il rientro di giovedì nel suo ufficio da parte del sindaco in occasione delle riunioni del collegio di vigilanza la vicenda delle dimissioni del sindaco di Chieti rifiuti a singhiozzo si teme l'emergenza il Civeta ha annunciato che da ieri per i conferimenti è scattata la limitazione allarme del comprensorio se i comuni pronti a costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento delle maggiori spese causate proprio dal blocco dei rifiuti i sindaci dei comuni vastesi consorziati vediamo qui si sono riuniti al municipio di San Salvo ieri a Teramo Tar primo round alla Tercop continuerà a gestire i parcheggi bloccata la sospensione del servizio che era stata adottata dal municipio stesso il sangue di Giovanni era in tutta la casa ricordiamo ci spostiamo al comune di Silvio effettuato l'esame tecnico nella villetta dove Di Martino è stato ucciso dal figlio Giuseppe la moglie Anna ha tentato di fare pulizia secondo la procura la collutazione fatale è stata ripetuta andiamo adesso spostarci prima di passare alle pagine sportive sulla città ladri barordi seminano danni in via Capuani a Teramo colpite almeno in 5 attività bar, macelleria e pizzeria parrucchiere ed enoteca questo è quello che è successo questi giorni da dei ladri barordi andiamo anche qui ricordare la vicenda Tercop in via il Tartian invita Tercop fino al 20 novembre la vera evoca della gestione delle strisce blu è stata sospesa fino alla discussione nel merito del ricorso la speranza è che il Comune ora deve bandire una nuova gara a cui dovrebbe partecipare proprio anche la Tercop stessa andiamo avanti ci spostiamo su altre notizie proprio il forum del Gran Sasso i rettori africani aprono al confronto sulla prevenzione patrimonio culturale beni culturali e beni naturali ieri all'Università di Teramo la conferenza con i 29 delegati dell'Università africane nuove verifiche tecniche sui viadotti dell'A24 divieto di transito per 5 giorni per i mezzi pesanti verso Teramo con uscita obbligatoria all'Aquila Est questo è l'annuncio fatto dalla strada dei parchi andiamo avanti ci spostiamo alla vicenda che è accaduta in Comune di Silvi questi giorni madre e figlio hanno pulito la scena del delitto ieri mattina il sopralluogo di Carabiniere procura nella casa di Martino qui vediamo nella foto i militari e procura davanti all'abitazione e poi la vicenda al Comune di Silvi scientifiche e polemiche durante il Consiglio Comunale la maggioranza boccia tutte le mozioni e le interrogazioni presentate dalle opposizioni e poi adesso ci vogliamo spostare alle notizie sportive partiamo dal quotidiano il centro l'Inter in contropiede soffiato Sensi al Milan questi sono il duello del mercato Pescara invece urge sfoltire ben 15 difensori anche il Benevento si iscrive alla lista dei corteggiatori di Brugman per il centrocampo spunta Busellato del Foggia e invece anche qui il Teramo la notizia che riporta il centro Tomei Martignago e Contini trisse di ipotesi per il Teramo calcio ci spostiamo alle notizie sportive del messaggero pescare in arrivo il colpo su Busellato la società pronta a chiudere rapidamente per il 26 anni mediano del Foggia ex cittadella e anche il Teramo all'attacco da serie superiore Iachini sonda promette una squadra molto più forte dell'anno precedente vediamo adesso le notizie sportive del quotidiano la città della provincia di Teramo Teramo calcio Tomei Tedino il tecnico rivuole il suo numero uno la richiesta del tecnico è di avere l'estremo difensore Iachini lunedì il giorno di Iaconi vogliamo vedere il servizio prego il Teramo mette sul piatto le strategie per rafforzare la squadra da consegnare presto a Bruno Tedino in tutti i reparti ci sarà non una rivoluzione ma quasi e per la zona mediana del campo la società bianco-rossa tratta due nomi su tutti il primo è quello di Antonio Vacca 29enne napoletano di proprietà del Parma ma che nell'ultima stagione ha giocato nelle fila della Casertana ingaggio pesante quello di Vacca ma che il diavolo conta di ammortizzare parecchio grazie all'ausilio della società gialloblu per assicurarsi quello che dovrebbe essere nelle intenzioni l'erede di Mattia Proietti destinato alla Ternana Vacca ha grandissima esperienza in Lega Pro ha giocato prevalentemente nelle piazze calde e porterebbe oltre che alle geometrie sul campo anche quel temperamento che servirebbe per un torneo complicato che sia nel girone B o in quello C personalità e qualità dunque per la zona nevralgica del terreno di gioco in cui il Teramo vorrebbe riportare anche Carlo Ilari che dopo due stagioni in bianco rosso con due salvezze conquistate nell'ultimo anno ha militato nella San Benedettese Ilari garantisce prevalentemente quantità ma anche inserimenti in zona gol con il rosoblu ha imparato a giocare a supporto dell'unica punta ampliando dunque il proprio raggio d'azione ma non basta perché il restyling potrebbe essere anche tra i pali e in questo caso Tedino vuole esperienza ha chiesto infatti espressamente il portiere Matteo Tomei 34 anni che con il tecnico ha difeso i pali del Pordenone prima di passare alla Vispesaro che gli ha consegnato la maglia numero uno questo inevitabilmente con Lewandowski ancora sotto contratto potrebbe ridurre le possibilità di Lisgomis che si sta ancora curando dopo il terribile infortunio che gli ha occorso contro l'Albino Leffe l'allenatore ha fatto delle richieste esplicite al direttore generale Andrea Iaconi e al presidente Franco Iachini che ieri hanno di fatto trovato l'accordo per la permanenza di Cappa e Piacentini in bianco rosso mentre nel pomeriggio è stata ufficializzata l'iscrizione al prossimo campionato Girone B o Girone C ancora presto per saperlo quello che è certo è che il prossimo ritiro sarà a Celano e non più a Rivisondoli e partirà qualche giorno più tardi rispetto a quanto previsto invece del 15 luglio la truppa bianco rossa partirà il 20 e rimarrà nella Marsica fino a Ferragosto anche per permettere i lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio Bonolis e l'installazione dei seggiolini così come richiesto dalla Lega Pro per il torneo 2019-2020 che qualora il diavolo riuscisse a centrare gli obiettivi di mercato vedrebbe un teramo molto rinnovato mancherebbero solamente gli attaccanti ma quello della prima linea sarà tema da affrontare con dovizia di impegno e particolari solamente nei prossimi giorni vogliamo concludere con due notizie di altri sport il podismo a Pineto a Tugna e Mancini conquistano la corsa del sostizio la terza edizione dominata dai vincitori dall'inizio alla fine anche Ruggero e Scacchia sul podio maschile e poi l'Abruzzo del Vuoli punta ad entrare tra le prime 12 il tecnico della selezione maschile Lanci vuole partire bene saranno decisive le partite contro Basilicata e Sardegna con questa ultima notizia vogliamo concludere la nostra trasmissione di mattino 6 dove vi ringraziamo come sempre che ci seguite quotidianamente dal lunedì al venerdì con la nostra rassegna stampa vi ricordo che potete anche rivedere le nostre trasmissioni di mattino 6 ma anche le altre programmazioni sul nostro sito internet www.tv6.it io vi ricordo anche che alle ore 14 alle ore 19 alle ore 23 ci sarà il nostro telegiornale di TG6 e ne ringraziandovi vi ricordo anche che mattino 6 riprenderà lunedì mattina alle ore 8 e vi ringrazio per la vostra attenzione vi auguro una buona giornata e vi ringrazio Grazie a tutti.